venerdì le due di pomeriggio sono rientrando a casa e mi volevo fermare non ho mai contanti con me per comprare la frutta ora mi fermo gli asparagi li vengono 2 per 3 dollari buon prezzo ottimi prezzi qui in limoni 2 dollari la cesta questa cos'è interessanti questi mandarini gli avvocato su questi jas costicchiano è qui gli aranci ho le quenepas voglio le quenepas le quenepas si trovano solo in queste zone non so spiegare come sono sono interessanti le ciliegie 3 dollari i don't need that much somehow i can give you one pound i won one pound how much are they three dollars yeah yeah i'll take a pound of pinepas i haven't seen them in a long time and the lee what did le cheese taste like really sweet they're really sweet yeah what is this here rambutan oh what is this rambutan is what is it like that one like see that one rambutan they look like the same from the same family like they cause like peaches and nectarine oh it's between a peach and nectarine wow i'm gonna get some mangoes hold on sure pick up which one do you like i'll take uh in the mangoes i'll take they're a dollar each dollar each okay oh this is a nice one i'll take this one i'll take two mangoes i'll give you a bag here thank you you're welcome two mangoes i have the canepas and then um let me see oh wow what else i'll have about a pound of cherries a pound of cherries yes hey guys we're not going to see the edges that's good a couple of minutes okay thanks that's it yeah ah nell'ultimo video di trader joe's avevo tre regalavo tre tre totes a una persona ha vinto federica perretti e lei ho già messo tutto qua dentro sono tre totes poi ho messo anche un pensierino della mossa di frida calo e poi ho messo da parte una busta una delle buste di trader joe's che sono troppo adorabili perché tu eri ti ho estratto e tu sei una persona che dice che ama i supermercati quindi mandami il tuo indirizzo ho la busta pronta ciao e buon weekend siamo alle 10 e 12 oggi è il 15 e dovevo lavorare questo oggi però hanno cambiato abbiamo cambiato programmi sono tornata al trailer joe ho fatto un bel po' di spesa la settimana scorsa però volevo prendere delle cosette perché ovviamente hanno finito tutte le migliori cose le hanno finite e ci sono tornata mi è piaciuto molto questo lavaggio ne prendo un altro mi è molto piaciuto questo 2,79 2,49 questo lavaggio è un po' buono questo ci è piaciuto quindi lo riprendo valutazione auto carote ne ho il camp fermento tanto che grazie! ci piace vediamo se non faccio casini qui metto un po' di half of half perché è metà latte e metà panna o crema un po' di zucchero facciamoci un bel caffè ne ho preso un 4,99 un buon prezzo questo caffè, ho fatto cappellate è veramente buono veramente valido quindi chi vive negli States trovate questo qui valido hanno le sanguinelle, le blood oranges 2,79 insomma da dove vengono questi qui? ora indaghiamo 2,79 vengono ho apposato qui il mio caffè lo riprendo veramente buono i cappellate cos'altro c'è qui? vediamo qui i pomodori che ho preso la settimana scorsa la trovate Jordan io non ne avevo trovate eccoli qui questi di village ci sono anche da i campari dicono qui i campari ci sono anche da shopping 29 un buon prezzo poi mi serve mi serve il latte perché io lo bevo a bicchieri c'è il latte intero prendo il 2% questo è il 2% prenderò questo qui io lo bevo a bicchieri quando sei dopo la menopausa un bel bicchiere di latte ogni giorno ti fa bene ho uno yogurt ti bevo il latte quindi dello yogurt cosa prendiamo qui? banana and cream strawberry questa buona 2,99 questi erano veramente veramente ottimi sono 3,99 ne prendo un altro molto piaciute in casa quindi vi riprendo questi erano buoni però non erano eccezionali e questi chiosa qui questa c'è qui questi sono a gamberi accidenti 4,99 no 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 questi 3,99 prenderò 2 di questi che ci piacciono un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.